Giaele Dedona ha la rivelazione dopo il GF VIP, ansia paura questa notte sarà la prima che passerò da sola. Una delle protagoniste di questa edizione del GF VIP è stata senza alcun dubbio l'influencer Giaele Dedona. Fin dal primo giorno, la modella ha attirato l'attenzione del web, dividendo le posizioni del pubblico a causa del suo matrimonio con Bradford Beck. Nelle sue ultime Instagram Stories, la modella, ha dedicato qualche minuto ai suoi fan pubblicando una serie di video. Mi sono appena distesa a letto e voglio dedicarmi questa mezz'oretta di relax. Questi sono gli unici minuti liberi da quando sono uscita. Sono davvero distrutta, ha spiegato la modella. Negli ultimi giorni, Giaele Dedona è ritornata a pieni ritmi sui social, pubblicando anche un lunghissimo post per ringraziare tutti coloro che l'hanno sempre sostenuta e supportata in questi mesi. Nelle ultime ore ha espresso qualche sua riflessione in merito al suo stato d'animo. Stavo fissando il muro da 10 minuti e stavo pensando che questo è il primo momento in cui sono da sola perché sono sempre stata circondata da persone. E questa notte sarà la prima che passerò da sola e questa cosa mi mette un po' di ansia e paura. Poi, ha aggiunto, prima volevo sempre stare da sola, ora non ci riesco e non mi piace più. Da quando sono uscita mi sento parecchiorina. In questa settimana sono stata poco bene però mi sto rimettendo. La mancanza è notevole, d'altronde per Giaele è stata una lunga esperienza. Da quando sono uscita io continuo a sognare di essere ancora dentro alla casa del GF VIP. Faccio degli incubi o dei sogni dove sono all'interno della casa e che parlo con i concorrenti, ha concluso la modella. Grazie. 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 Grazie.